Questi robot li abbiamo fatti due anni fa. Prima di tutto ci siamo di 15 gruppi e ogni gruppo aveva una scatola e c'erano 5 modelli da scrivere. Questo è uno dei modelli più complicati. Guarda quanti erano già pronti di costruire. Questo è uno dei tanti laboratori in cui per me costruiamo i robot e poi possono divertirci fare attività divertenti e anche istruttive. Molte robot li abbiamo costruiti in noi grazie alla scuola che ci hanno permesso queste attività commerciale. ci sono le scatole di qua. ci sono le scatole di costruire. ci sono le scatole di costruire. Ci sono le scatole di costruire. ci sono le scatole di costruire.